Noi abbiamo fatto questa scelta, ci sono le risorse destinate dal MIUR in base alla legge 107, alla legge Renzi, per il contenimento dei costi, per sostenere in qualche modo la frequenza al sistema educativo. Per cui noi abbiamo scelto in tutti gli asili, comprese anche quelli del sistema integrato, quindi gli asili convenzionati, un abbattimento per tutte le famiglie in base alla frequenza dei costi e saranno 50 euro per chi frequenta il tempo corto, 65 per chi frequenta il tempo lungo, 75 euro al mese per chi frequenta il tempo prolungato. Questo per venire incontro alle necessità delle famiglie, quindi sarà un abbattimento equo per tutti.